Cosa stai mettendo Giulia? Blush! Che brava! Dove mio amore deve essere abbronzatissimo! È bello! Questo è un inverno! Certo! Ma come sto venendo? Bello? Bello, guarda, proprio bello davvero! Da chi si sottopone alla tortura si fa per dire di farsi truccare A chi invece pubblica un tutorial sui social per realizzare un lavoretto per il proprio babbo Gli aretini sono stati in tanti ad inviarci i loro video per fare gli auguri appunto a tutti i babbi Che in questo momento stanno festeggiando questo 19 di marzo 2020 tra le mura di casa Mettiti su! Oddio, grazie! Vai Fede, digli anche quello che gli devi dire Papà, cammina dritto, cerca di non spandare perché sulle tue fronte io devo camminare Sono gli eroi dei nostri giorni, tutti i babbi, tutti i papà che sono in casa in questo momento con i loro figli Ma soprattutto a coloro che invece purtroppo oggi sono divisi A loro vanno i nostri migliori auguri e ovviamente anche il pensiero che tutto questo passerà Grazie, voliamo un bacio! Grazie, voliamo un bacio!